gentili telespettatori buona giornata ecco chi sono veramente quelli che ci governano così la sinistra indottrina i dipendenti della regione mandandogli delle informazioni a dirlo è l'euro parlamentare di fratelli d'italia fidanza in val d'aosta c'è una propaganda contro l'autonomia differenziata su intranet della regione che cos'è intranet intranet è un qualcosa simile a internet internet è la rete globale dove tutti accedono intranet è un internet dentro una rete chiusa può essere un'azienda una regione quindi l'intranet è l'internet diciamo solo per quelli che di un gruppo quindi ci si collega ci si manda le email bla 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 dentro un circuito chiuso si chiama intranet e così la propaganda tappeto passa proprio sull'autonomia differenziata ma voi avete visto come la sinistra si sta battendo per per cercare di fermare questa autonomia differenziata e voi direte ma è così brutta questa autonomia differenziata in realtà no quello che raccontano che divide il paese non è vero anzi lo unisce perché bisognerà spendere 170 miliardi che non ci saranno mai per avvicinare le due italie oggi è diviso il paese l'autonomia avvicinerebbe le due italia perché i lepp renderebbero trasporti e sanità al centro sud a livelli sufficienti quindi andrebbero a diminuire le distanze invece la sinistra racconta che divide l'italia quando sono loro nel 2001 che hanno messo in costituzione l'autonomia differenziata e schleine e bonaccini tifavano per l'autonomia differenziata dicendo noi non siamo degli accentratori noi siamo dei decentratori e oggi freneticamente raccolgono queste firme contro l'autonomia differenziata perché perché davvero pensano che l'autonomia differenziata sia qualcosa di negativo assolutamente no l'hanno messa loro in costituzione e i vertici della sinistra hanno sempre sperato in questa autonomia quindi perché lo fanno per andare contro il governo cioè il governo la vuole allora noi dobbiamo riuscire a farla fallire non perché ci interessi l'argomento qualsiasi cosa fosse anche un'altra roba il colore della pizza loro avrebbero fatto un referendum contro il colore della pizza solo per andare contro il governo quindi l'autonomia l'argomento autonomia differenziata non c'entra nulla loro vanno contro qualsiasi cosa faccia il governo e qui è il paradosso la cosa grottesca loro stanno dando i numeri per raccogliere queste firme su una cosa che hanno fatto loro che hanno messo loro in costituzione è spettacolare questa è la scuola questo è proprio un corso per capire quali sono le basi e le fondamenta dei muri ideologici della faziosità questo è l'esempio più classico di che cos'è un muro ideologico un'area politica che mette in costituzione l'autonomia che la vuole fare arriva un governo opposto dice facciamo l'autonomia e chi l'aveva proposta all'inizio dice che è una cosa che non si può ascoltare perché divide l'italia questi sono i muri ideologici le presi di posizioni ideologiche propagandistiche elettorali quindi sono semplicemente delle occasioni per rilanciare le battaglie anti governo quindi questa non è il referendum contro l'autonomia differenziata non è per gli italiani perché divide il paese per l'italia no è anti governo l'argomento sull'autonomia differenziata sono d'accordo tutti in politica solo che diventa oggi no perché bisogna essere anti anti governo ecco la sinistra è riuscita a criticare anche i 26 miliardi che ci sono di tesoretto in più nel cassetto dicendo che li prende con le tasse dai poveri italiani che da una parte è vero ma non è quello che sembra i 26 miliardi che ci sono in più arrivano 7 miliardi dal recupero dell'evasione fiscale e gli altri arrivano dal fatto che ci sono più lavoratori in italia c'è il record di persone che lavorano quindi ci sono mezzo milione in più di persone che lavorano che pagano le tasse perché le tasse le paghi quando lavori e quindi da quelle tasse dei nuovi lavoratori che ci sono in italia sono arrivati quei soldi ma il pd dice non mi piace devo dire che quei soldi li hanno presi dalle tasche degli italiani capite che è una sciocchezza senza senso lo diceva proprio boccia ieri in un'intervista al corriere della sera hanno il tesoretto e li hanno presi dalle tasche degli italiani se questo tesoretto si fosse trovato con un governo di sinistra lo stesso broccia avrebbe detto fantastico più posti di lavoro più entrate fiscali siamo nella direzione giusta c'è un tesoretto l'italia che cresce l'italia che ecco avete capito anche in questo caso che cos'è la faziosità ideologica a prescindere a priori e proprio queste cose che vi ho raccontato a questo punto torniamo alla sonistra che indottrina i i dipendenti della regione e così scrivono in val d'aosta il volantino del comunicato referendario che annovera tra i suoi partecipanti cgl pd 5 stelle rifondazione comunista potere al popolo arci ampi legambiente varie sigle della sinistra autonomista viene postato addirittura sulla intranet della regione a beneficio obbligatorio di tutti i dipendenti regionali avete capito come si fa propaganda all'interno delle istituzioni addirittura con i volantini dove si cerca di far capire di far capire quanto sono cattivi quelli al governo c'è scritto sì all'italia unita libera e giusta perché il governo divide il paese impoverisce il lavoro colpisce la sicurezza smantella l'istruzione pubblica privatizza la sanità e poi ce ne sono altre che sono scritte più piccolo quindi dicono ai dipendenti della regione val d'aosta che il governo credo probabilmente il peggiore del mondo della via lattea perché divide il paese impoverisce il lavoro colpisce la sicurezza smantella l'istruzione privatizza la sanità peggio di così è un governo un governo mostro ci sta facendo delle cose terribili contro l'italia ecco questa è la propaganda in regione dal della sinistra propaganda obbligatoria che tu ricevi via intranet avete capito come funziona in italia funziona proprio tristemente così e poi è il bello che c'è gente che ci crede veramente a quelle cose che vi ho detto prima grazie a tutti e arrivederci a presto